Nuovo successo per l'oasi di Torre Guaceto dove grazie all'agricoltura bio si è riaffacciata la pavoncella. Questo uccello migratore è di dimensioni medie ed ha un lungo ciuffo sul capo. La pavoncella preferisce prati umidi ma anche pascoli e campi arati. La sua dieta è fatta di insetti, invertebrati ed anche qualche seme. La Puglia è un'area di svernamento per questi volatili. Il loro arrivo è sempre concomitante con il sopraggiungere delle temperature rigide. La specie ha risentito molto dell'uso in agricoltura dei prodotti chimici ma il passaggio all'agricoltura bio ha creato le condizioni ideali affinché le pavoncelle tornassero in riserva con la certezza di potersi nutrire.